benvenuti benvenuti cari amici siamo bit in questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere votare like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche nel diagramm oggi abbiamo importanti notizie per quanto riguarda solana avalanche e infine andremo a vedere quello che prezzo bitcoin per cui iniziamo subito con solana perché c'è stato un attacco hacker ok con i quali sono stati sottratti 322 milioni di dollari ok subito diciamo i componenti solana hanno detto che verranno rimpiazzati ok con degli ethereum naturalmente che cosa è successo ai prezzi solana come abbiamo visto nella giornata in cui è avvenuto l'hack siamo passati dai 113 dollari addirittura ai 96 dollari successivamente ora il prezzo si attesta sui 105 dollari naturalmente il mondo del cripto è caratterizzato anche da questi eventi soprattutto sulle adefi però io ritengo che solana ok si rialzerà questa è un po' l'idea come vediamo siamo in trend discendente però potenzialmente abbiamo un collegamento sui 140 dollari questo è il mio prossimo target per quanto riguarda solana ora però andiamo a vedere avalanche perché sembra che avalanche presto potrebbe flippare proprio solana innanzitutto se andiamo a guardare le transazioni sul daily sul giornaliero stanno aumentando tantissimo e addirittura nelle giornate ieri abbiamo preso quasi numero di transazioni che riguarda ethereum ok e come possiamo vedere al grafico addirittura sono state raggiunte circa 100.000 transazioni in un solo giorno per cui un qualcosa di assurdo quello che sta avvenendo sull'ecosistema di avalanche tra l'altro l'ecosistema direi completissimo perché abbiamo la defi l'nft gli oracoli la dow lo storage la privacy quindi attenzione perché davvero avalanche potrebbe fare un netto sky rocket in più se ci aggiungiamo anche il sistema di burning come avviene su ethereum sostanzialmente sistema di burning che naturalmente va a ridurre quella che la supply di avalanche in particolare attraverso le transazioni la creazione di nuove asset la creazione dei nuovi blockchain e anche la creazione di nuovi sapnet per cui come vediamo qui già 52 milioni di dollari sono stati bruciati su avax che hanno un controvalore di circa 500 5 scusate 753 mila avax quindi al momento avalanche ha una capitalizzazione di 17 miliardi per un prezzo nominale di 70 dollari mentre sostanzialmente solana ha una capitalizzazione di 33 miliardi capite come potenzialmente con un 2x sulla capitalizzazione di mercato presto avalanche potrebbe superare solana naturalmente anche il fatto che le transazioni si stiano molto avvicinando a quelli di ethereum potrebbe andare a favorire il tutto considerando in aggiunta anche che l'offerta in circolazione comunque sta andando a diminuire grazie al burn che si sta effettuando io vi dico attenzione ad avalanche naturalmente non sono né consigli finanziari né consigli trading però volevo aggiornarvi su quello che sta avvenendo sul suo ecosistema ora notizia molto importante è anche quella che riguarda open sea ok perché sul mese l'abbiamo raggiunto il record ok di vendite sugli nft pensate 5 miliardi di dollari sono stati venduti ok quindi un qualcosa di assurdo e soprattutto diciamo i principali nft al momento sono azuki board up a pay act clonix x mutanta pay act a club quindi io penso che il mondo nft è appena all'inizio anche perché nintendo che si sta andando interessare maggiormente al mondo nft per aggiungerli ai propri giochi come giochi come quelli di super mario e di pokemon in aggiunta anche disney ok sta ricercando sostanzialmente dei nuovi esperti per quanto riguarda il mondo nft e ora vorrei andare a vedere con voi quello che il prezzo di bitcoin al momento siamo a 38 mila dollari ok sostanzialmente e che cosa potrebbe succedere allora io ho tracciato questa trend line discendente e abbiamo fatto punti tangenza ok proprio oggi siamo arrivati addirittura a 38 e 5 ora è davvero un momento decisivo secondo me andiamo a sfondare ok sostanzialmente vediamo che i minimi sono crescenti ok e secondo me manca davvero ma davvero poco alla rottura per cui io mi sto già preparando ok sto allacciando le cinture perché dal mio punto di vista secondo me è arrivato il momento decisivo come vedete anche minimi crescenti che vanno sostanzialmente a creare struttura tra il line discendente che manca davvero poco per me i bulls ok andranno a rompere quella che è la resistenza naturalmente andiamo a vedere anche la bitcoin dominance perché in questo momento è in calo ok diminuito un po' però dal mio punto di vista ok bitcoin prenderà forza e di conseguenza andrà su vi ricordo anche la crypto total market cap al momento siamo a 1.73 trillions naturalmente ci vuole forza sostanzialmente quindi che cosa bisogna fare in questo momento quello che ci vuole è il raggiungimento che è sostanzialmente dei 2 trillions ok per andare a fare punti di tangenza sostanzialmente sulla trend line discendente e di conseguenza anche romperla infine vi ricordo anche quello che l'alco index al momento ci troviamo a 43 diciamo che le alz sono esposte fino a quando siamo sotto a 50 può essere un ottimo momento sostanzialmente per le alz però vi ricordo che i migliori momenti per aprire sulle alz sono sostanzialmente quando siamo all'interno di una bitcoin season per cui voi fate le vostre doverose considerazioni vi ricordo di ristruggire il botone like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con costo di 50 euro e gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di ristruggire il botone like di iscrivetevi canale e ci vediamo presto